Musica Resistenza e Costituzione due valori da proteggere e difendere Oggi siamo qui come Ampi e abbiamo organizzato questa assemblea insieme a Ludu perché riteniamo che in questo periodo si senta una forte esigenza di democrazia Il 25 aprile quest'anno ricade in un periodo molto particolare, quello della Pasquetta questo non ci ha aiutati nelle celebrazioni e nel valorizzare questa giornata di grande importanza storica e quindi siamo qui per commemorare prima di tutto la memoria della Resistenza di questa gloriosa stagione della storia italiana Valorizzare il contributo del Salento alla costruzione del nuovo Stato democratico I nostri partigiani, anche coloro i quali entravano a far parte dell'assemblea costituente e quindi contribuirono a scrivere quella che è la carta fondamentale dello Stato italiano e che rappresenta il compromesso più alto dell'italianità Bisogna guardare la Costituzione come un pilastro dell'italianità in quanto proprio attraverso la Costituzione possiamo rivalutare quei principi della resistenza che oggi non sono per niente scontati infatti come il fascismo era un atteggiamento anche l'antifascismo lo deve essere quindi difendere la libertà di parola, la libertà di stampa Comunque valorizzare quelli che veramente sono i valori che portarono avanti i nostri padri costituenti e i partigiani è veramente importante, soprattutto oggi che la Costituzione riceva un attacco diretto da parte del governo liberticida che abbiamo in questo Paese Un messaggio questo lanciato dai giovani, ma da chi volete essere ascoltati? Essenzialmente noi vogliamo essere ascoltati da tutte le fasce dei cittadini italiani perché la Costituzione non è un valore che può essere un gruppo di amici, un gruppo politico o sociale la Costituzione è un valore che riguarda tutti noi ed è qualcosa di non solo politico ma anche di una grande forza morale e spirituale a nostro avviso quindi la Costituzione secondo noi dell'Unione degli Studenti è una serie di leggi, di regole ma anche un grande augurio per un'Italia migliore in un futuro ma anche in un presente che noi rivolgiamo a tutta l'Italia Naturalmente abbiamo un'attenzione particolare anche verso le spere politiche nazionali e non che più di una volta noi vediamo infangare quelli che sono i principi della nostra Costituzione anche se a parole sono molto bravi come del resto o chiunque è bravo a lotarla a lotare questo importante corpo di testi ma nei fatti purtroppo minano quelli che sono i principi basilari grazie a tutti grazie a tutti